Anche io sarò breve, poi ascolto il Ministro fin dove possibile e credo che con gli altri colleghi dobbiamo a un certo punto salire per un voto, che credo sia anche un voto segreto, quindi ha una sua delicatezza, come si suol dire. Io volevo ringraziare innanzitutto l'ISPRA per l'eccellente lavoro fatto, che qui sono vari colleghi della Commissione Ambiente e Territorio, che oltretutto ci aiuta anche tecnicamente in questo momento a individuare un punto delicato della legge che stiamo esaminando assieme alla Commissione Agricoltura sulla limitazione dell'uso del suolo agricolo. Poi è difficile fare delle barriere semplici, diciamo, fra suolo agricolo e suolo non agricolo, che è quello della certezza dei dati. Viene sottolineato anche qui nel rapporto, qui si ribadiscono i dati essenziali del consumo di territorio, gli 8 metri quadri al secondo, l'andamento differenziato nelle varie regioni, l'andamento nei decenni, però la verità è che nel momento in cui uno va a proporre una pianificazione più stringente, con tutte le difficoltà del caso, perché voi sapete che questa è una materia in cui fra Stato nazionale e regioni c'è un problema non semplice di competenze da articolare, uno dei problemi che ha davanti, ma questo riguarda il sistema agenziale in generale, è il fatto che i dati non sono certi. Abbiamo varie fonti e se l'ISPRA, adesso lo dico in termini un po' brutali, io per quello che vedo, per la discussione che c'è stata anche sulla legge, questo lavoro lo può fare o l'ISPRA o l'ISTAT, per capire qual è il punto di affidabilità delle politiche pubbliche in materia. E l'ISPRA, benissimo, questo rapporto può essere una prenotazione, però bisogna che questi dati siano certi, questo è un rapporto interessante, ma c'è, e lo dite anche voi, disomogeneità nelle fonti e disomogeneità anche nella capacità delle singole regioni di fornire dati che sono poi effettivamente affidabili. Il secondo punto è quello che diceva prima il Presidente De Bernardinis, è un punto oggi molto importante, noi stiamo parlando di una questione che ha una sua rilevanza oggettiva. sappiamo che la tradizionale fragilità del nostro Paese, mi è stato regalato adesso un libro di due geologi, Valdinucci e Menotti, che parlano a 50 anni dalla frana del Vaiont di cosa è accaduto a loro, quindi è una tradizionale fragilità, una purtroppo storica incapacità di pianificare adeguatamente. Io ho scoperto solo di recente, il Ministro forse lo sapeva già, che il monte Toc in dialetto significa monte che frana, quello che ha prodotto la frana del Vaiont, e nessun pastore avrebbe mai costruito una baita sulle pendici della montagna che è franata, forse, diciamo, se uno avesse tenuto conto almeno delle conoscenze storiche avremmo evitato quella tragedia. Ma sappiamo anche che questa tradizionale fragilità e incapacità di pianificare il nostro Paese è oggi accentuata dall'intensificarsi dei fenomeni atmosferici, per cui una sbagliata pianificazione, che è evidente in quasi tutti i posti in cui abbiamo alluvioni e tragedie, basta vedere le immagini di Olbia per capire che in molti di quei posti non bisognava costruire, e che lì, come da altre parti, c'è un rischio a vivere in quelle zone, soprattutto se non si fanno le scelte giuste, sia dal punto di vista della gestione dell'emergenza che dal punto di vista della pianificazione. Viene accentuata appunto dal mutare del clima che propone eventi atmosferici più estremi. Ma questo elemento, in passato, è stato visto in contrasto con l'elemento dell'economia. Cioè chi avesse parlato dieci anni fa di consumo di territorio sarebbe stato visto come un nemico dell'edilizia, che è tradizionalmente un settore che produce molti posti di lavoro e molta economia. Bene, la finestra importante che abbiamo oggi è che oggi questo non è più vero. Oggi il grosso dell'edilizia è già un'edilizia legata al recupero e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, parliamo di oltre il 60%. Le misure più importanti per l'edilizia sono misure che incrociano le politiche ambientali, una misura che in particolar modo come Commissione abbiamo difeso e cercato di espandere il più possibile. Il credito d'imposta nell'edilizia e il cosiddetto ecobonus hanno prodotto l'anno scorso, secondo i dati del Cresme del Servizio Studi della Camera, 19 miliardi di euro di investimenti privati e oltre 280 mila posti di lavoro fra diretta e indotto. È stata di gran lunga una misura più efficace dal punto di vista occupazionale e questo incontro che c'è oggi quasi in contemporanea dei sindacati con l'ordine degli architetti credo che di questo parlerà, ma più ancora siamo di fronte a una nuova generazione di politiche in cui l'elemento del contenimento e l'uso del territorio non è più un elemento ostile ma un elemento di accompagnamento a una politica in cui la qualificazione delle edilizie esistenti dal punto di vista della sicurezza antisismica, del risparmio energetico, della qualità delle città è un elemento chiave perfino di valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e una politica, una generazione di politiche che ci pone anche la necessità di guardare con altri occhi il mondo adesso lo dico al Ministro, noi abbiamo discusso tantissimo di IMU l'IMU sulla prima casa nel 2012 valeva 235 euro in media fra una casa costruita bene e una casa costruita male passa una bolletta da 1500 euro dimezzare questa bolletta è molto più importante dell'IMU e dimezzandola si riduce l'inquinamento, si riducono i consumi di energia e si produce tanto lavoro il complesso dei consumi energetici delle nostre abitazioni vale circa 45 miliardi di euro più di 10 volte la manovra dell'IMU cosa è più importante per il Paese? e aggiungo, e qui vorrei che il Ministro dell'Ambiente gioca sul ruolo più di coordinamento forte che nei fondi strutturali europei, il QCS 2014-2020 c'è la mobilitazione di circa 20 miliardi di euro 10 per le strategie di adattamento e 10 per le strategie di mitigazione voi sapete che adattamento significa sostanzialmente gestione del territorio e quindi parliamo di nuovo delle cose che sono oggetto di questo rapporto mitigazione significa riduzione innanzitutto dei consumi energetici e questo di nuovo ha molto a che fare con una nuova edilizia quindi c'è una generazione di politiche che sono anche le più efficaci per produrre lavoro e per contrastare la crisi che accompagnano il tema di questo rapporto che oggi non è solo un dover essere per così dire non è solo un atto di bontà ma è un atto di intelligente pianificazione di un Paese orgoglioso che scommette sul futuro su questo un ultimo punto è molto importante il ruolo delle agenzie e dei controlli c'è una discussione, c'è una legge in discussione alla Camera a partire dalla Commissione che presiedo ma qui ci sono, ripeto, tanti colleghi di questa Commissione bisogna sapere che la semplificazione necessaria in Italia è credibile solo se c'è un sistema autorevole e trasparente di controlli chi parla di semplificazioni senza un sistema autorevole e trasparente di controlli porta il Paese su una strada sbagliata perché poi le scelte non si fanno bene i cittadini non si fidano e tutto si impantana allora il ragionamento della semplificazione che vale per tante cose insomma con il Ministro abbiamo avuto modo di discutere più volte e credo che ci toccherà farlo ancora della vicenda Sistri per gli errori che sono stati fatti in quella vicenda ma tanti sono i casi in cui abbiamo norme ridondanti che non servono a tutelare nell'ambiente e nella salute dei cittadini ma se non c'è un sistema di agenzie territoriali e nazionali che abbiano la forza di essere il punto di riferimento per politiche efficaci la cosa non va avanti qui l'ISPRA deve giocare un ruolo ancora più forte di quello che gioca adesso e deve essere ancora di più agenzia al servizio del Paese di tutte le politiche del Paese di quanto finora non lo sia stata su questo c'è l'impegno del Parlamento siamo sicuri che non mancherà l'impegno del Governo grazie Presidente solo prima di cedere la parola Sian Ministro solo un accenno Presidente senz'altro noi non siamo e non ci sentiamo in competizione con gli altri fratelli anzi il nostro ruolo è quello di dare una mano ad integrarci tra tutti noi quindi io ringrazio l'ISTAT stesso che ha contribuito a questo così come la GEA, l'ultimo dei Cugini in qualche modo con i quali molti di questi dati vengono raggiunti e messi insieme rivendico soltanto un fatto che secondo me è importante rispetto a quello che è stato detto che è che quando si parla di consumo di suolo si passa attraverso il suolo e in qualche modo noi cerchiamo di declinare questo tenendo conto anche di quello che è stato detto cioè del ruolo del suolo complessivamente come questo si ribalta ad esempio sull'attività agricola e quindi dei pesticidi e quindi dei nitrati o sulla biodiversità che corrispondono a tanti altri reporting che in qualche modo danno una conoscenza complessiva del Paese questo è il nostro ruolo cioè introdurre sul dato anche il processo del fenomeno credo che questo sia il ruolo tipico di noi come sistema della conoscenza e quindi rivendichiamo questo certamente rivendichiamo il fatto che ognuno giochi il suo ruolo e che questo ruolo concorra a dare più forza come è stato detto al Paese stesso nella possibilità di fare scelte e sostenere il giudizio e giudicare tale scelte l'anno scorso in quest'Aula abbiamo presentato le linee guida per la mitigazione del rischio idrogeologico in zona rurale proprio per toglierlo sostanzialmente dal solito terreno e vederlo su un altro io credo che questo sia l'impegno fondamentale sottolineo che non esistono controlli o attività di controllo o attività ispettiva senza una profonda conoscenza dei processi non è semplicemente verificare il superamento o il non superamento di una soglia non è semplicemente verificare la coerenza o con un quadro progettuale ma è anche capire il perché esiste un'anomalia il capire il dato che abbiamo in mano che cosa significa per offrirla a voi per fare le scelte non per fare noi le scelte per dare a voi la possibilità di governare adeguatamente o mi serisco in questo così per arricchire